Droga a Gogo in via Algeria, polizia di Stato, arresta due residenti. 20 poliziotti in azione coinvolti nel servizio straordinario antidroga predisposto dalla questura di Siracusa hanno tratto in arresto due siracusane pluri pregiudicati per reati in materia di droga colti in fraganza per reati di detenzione finalizzata dal traffico di sostanza stupefacente del tipo marivana, ascice e cocaina. Nello specifico personale della squadra mobile unitamente al personale delle volante della unità cinofila della questura di Catania conduttori dei cani poliziotto Iocco e Sky nel corso di apposite servizio antidroga ha proceduto al controllo di uno dei condomini di via Algeria. Gli operatori introdottosi all'interno dello stabile sono diretti immediatamente all'interno dell'abitazione di un soggetto 47enne già noto agli inquirenti poiché è pluri pregiudicato per reati specifici e allo stato sottoposto ai domiciliari per altra calla. La perquisizione esperita ha consentito per l'ennesimo volta di scovare all'interno dell'abitazione la bottega di biterlo spaccio infatti all'interno del bagno occultato in un vano a muro coperto da una mattonella sono state rinvenute e sequestrate ben 94 dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina per un ammontare complessivo pari a 18,35 grammi, marivana per un totale di circa 83,40 grammi 23 dosi di ascice parte di un panetto di ascice per un totale di 59,50 grammi la somma del denaro di 730 euro in banconote di vario taglio evidente provento dell'attività delettuosa perpetrata dall'indagato bilancini di precisione e materiale per il confezionamento nonché una cartuccia calibro 9 corto ritenendo che l'uomo potesse occultare altra sostanza gli operatori sono regati sul terrazzo del condominio oggetto di perquisizione dove anziché trovare sostanza stupefacente hanno rinvenuto una pistola semi-automatica con caricatore e 5 cartucce e un revolver calibro 38 e 19 cartucce del medesimo calibro sequestrate a carico di ignoti nel proseguo dell'operazione è stato controllato anche un altro stabile di via Algeri dove all'interno di una delle abitazioni del condominio risultava sottoposto al domiciliero un giovane siracusano 25enne precedentemente tratti in arresto per reati specifici dalla locale squadra mobile anche in questo caso incurante della misura cautelare in atto all'interno della propria abitazione occultava sostanza stupefacente del tipo marivana pari a 230 grammi custodita in due buste di cellophane sotto vuoto pertanto al termine dell'operazione i poliziotti visto il quantitativo sequestrato nonché i pregiudizi di polizia dei due uomini hanno preceduto all'arresto per reato di detenzione ai fini di traffico di sostanza stupefacente al termine delle incombenze di arrito il giovane 25enne è stato posto agli arresti domiciliari mentre il recidivo 47enne è stato associato alla locale casa circondariale entrambi a disposizione dell'autorità giudiziaria procedente in attesa della celebrazione del arrito direttissimo grazie